Quattro nuovi casi, un guarito ed un deceduto in provincia di Lecce. Il dato dei nuovi contagi emerso dal bollettino epidemiologico pugliese del 17 agosto è il più basso dell'ultimo periodo ed è caratterizzato ancora una volta da pazienti di rientro da vacanze all'estero. I quattro positivi al coronavirus odierni portano a 4.862 il totale dei pazienti registrati in Puglia, di cui 3.982 guariti, 325 attualmente positivi e 555 deceduti. Scendono da 275 a 274 i quarantenati, salgono da 48 a 51 i ricoverati. Tre dei nuovi casi odierni sono provenienti dalla provincia di Bari. Di questi uno è di rientro dalla Grecia, uno dalla Repubblica Circa ed uno è invece un paziente sintomatico individuato in un triage di struttura sanitaria. Il totale del barise sale a 1.589 e resta il più alto della regione in termini numerici. Il restante, caso odierno, è un cittadino straniero presente in provincia di Foggia, zona che tocca i 1.268 pazienti complessivi e resta la più colpita della regione in rapporto alla popolazione. Tutto invariato nelle altre zone. Senza contagi da quattro giorni sono le province di Brindisi e Barletta-Andriatrani, i cui dati complessivi sono rispettivamente di 681 e 390. Da due giorni fermo a 290 pazienti è invece il dato della provincia di Taranto. 610 è infine il numero totale dei casi registrati nell'Eccese. I 920 test odierni portano 268.924 il totale dei tamponi effettuati in Puglia.